Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e questo è l'ultimo episodio di Spore Galactic Adventure. Si dico l'ultimo perché la serie appunto è arrivata al suo termine, essendo questo l'episodio del 65 dico vabbè, è un buon discorso quello per... è un buon numero per concludere. Ci saranno nel frattempo degli episodi riempitivi, ci sarà un vlog probabilmente a breve per il contest e per quanto riguarda degli aggiornamenti del canale, credo. Dovrebbe uscire probabilmente quando... al posto che il prossimo episodio di Spore ci sarà il vlog. E niente, quindi questo è l'ultimissimo episodio di Spore Galactic Adventures. E vorrei provare in questo episodio a fare magari qualche missioncina. Ah, qua c'è qualcosa anche da raccogliere, andiamo a raccoglierlo. E devo dirvi che sono un po' triste a pensare di concludere l'episodio, di concludere la serie, perché ci ha accompagnato per davvero un sacco di tempo. Sono forse un paio d'anni che ci spore come serie, quindi... E' un piacere vedervi Impiero Minor. Ok, dobbiamo andare a fare una prelustrazione. E quindi mi spiacerà. Nel senso, mi spiace già adesso di concludere la serie di Spore, però effettivamente l'hanno notato anche alcuni iscritti e è diventato troppo noioso per poter continuare. E o si inizia con una seconda stagione, e non mi pare il caso, perché anche io mi sono un po' stufato di giocare Spore, nonostante sia un gioco molto bello, magari lo riprenderemo più in là e non proprio adesso. Neptidido, cos'è che dice che devo andare? Ok. E dobbiamo scansionare le forme di vita che ci sono. E... Ah c'è della roba, andiamo a prendere la roba prima live, poi andiamo a vedere... Ne... 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 Neb... Neb Tildo. Ma che bella sta piante, tra l'altro. Ho imparato tantissimo, tra l'altro, da questa serie. Spero che possa aver dato qualcosa di... ...interessante anche a voi. Ah, è qua. Perché davvero, a me ha dato tanto, sia come rapporto con gli iscritti, sia come numero di iscritti che sono aumentati anche per quanto riguarda Spore, e sia anche per quanto riguarda il gioco, nel senso che per esempio al centro della galassia non ero mai arrivato, forse l'ho già detto, e delle altre missioni non le avevo mai fatte, né ero comunque andato così in profondità nel gioco. Andiamo a fare però qualcosa qua all'interno, perché sennò continuo a parlare e voi vi annoierete come dei cani. Servono quelle grandi. Ok, adesso devo cercare gli animali. E chi li trova, gli animali, mo? Mmm, queste missioni in cui devi trovare tutta sta roba. Ma questi sono degli animali. Smerch. Perché mi fai vedere ancora l'altra di prima? Questi sono sempre degli smerch. Se ci premo sopra non... Ah, ma no, ma li ho visti tutti quelli che ci sono qua, non ci sono... Cioè, manca, manca, non c'è lo slot erbivolo. Quindi dovrei essere a posto. Ah no, preleva campioni di piante animali. Ok, allora dobbiamo prelevarli. Mi sa. Allora. Una. Due. No, quella non è una pianta. Questa sì, però. Ok, no, ma aspetta. Prendami anche uno smerch qua che non... Non so quanti no nella stiva. Ah no, non ne avevo. Perché mi hai detto che avevo concluso? Boh. Sinceramente è una vita che non faccio più questo tipo di missioni, quindi... E... Dobbiamo salvare un pianeta. Arriviamo subito. Andiamo solo a depositare quella roba là. Della specie mozzo. Ci sono delle... Dei mozzo malati. Ok. Dov'è che è, però? Laggiù. Ci sono dei mozzo non evoluti da estirpare. Che cosa assurda. È tristissimo. Mi ha dato della spezia gialla, però, che non ne avevo più, tra l'altro. Ma sono qua su quest'isola? Che triste, concludere uccidendo dei mozzo. Arrivedo, orci. È stato un piacere, orci. È stato un piacerissimo. No, in realtà no. Però, vabbè. Li abbiamo salvati e li abbiamo salvati. Li abbiamo salvato dal colonosso dell'ecosistema. Andiamo da... Degli altri amici di lunga data. Impero e me. Che tra l'altro sono... Non sono completamente felice nei nostri confronti. Potremmo andare... Ah, no, questi sono gli human. Non sono i me. Vabbè, ciao Bellif. Vi faccio una missione. Membro di Pavlog. Ok. Dove devo andare? E il sistema Fella sei. Fella sei su Dene. È questo. Me li sono inimicati, eh. Non si fanno questi furti. Però dai. Era per amicicciarci un po' con l'impero human. Ciao, impero human. Arrivederci. Eh, 40.000 spore credit per una roba del genere. Valgono un sacco il traffico di esseri umani, eh. Andiamo qua, dai, adesso dagli impero me. Che tanto tempo che non andiamo a salutarli, eh. Saluti impero me. Come state? Guardate. Tra l'altro, la parte di Galactic Adventures alla fine è stata poco sfruttata perché funzionava poco. Uno, i server non sono più aggiornati e due, cioè nel senso non funziona più, sono stati staccati. E due per questo. Vape Plot Against Us. Questo mi chiarisce perché era molto tempo che non facevo più missioni. Vabbè, questo è l'ultimo episodio, diciamo che è un Vape Plot Against Us, che è stato proprio il filo, il filo rosso, diciamo, che ha condotto tutta la nostra esplorazione dello spazio. Tutte le nostre missioni hanno avuto Vape Plot Against Us. E quindi cosa meglio di questo per concludere l'episodio, per concludere la serie? Una bella missione in cui bisogna uccidere degli esseri umani per salvare dei polli. Tra l'altro su, in carico degli impero me che sono degli esseri umani. Tutto questo è molto assurdo. Ah, qualcosa mi dice che dovrò parlare con un pollo, poi prendere una pergamena, portargliela e andare a ammazzare degli umani. Parla col pollo. Psst, hey, over here. I think humans suspect animal plants. Catch the scroll and let's read. Qui tra l'altro ci sono 60 pergamerie tutte diverse. Devo donarla a quel tipo là. No, uno qualsiasi ma di quelli a cui posso regalarla. Guarda come cambia il tono, sono proprio tutti arrabbiati adesso. The scrolls say to kill the humans now. Ok, adesso dobbiamo andare a uccidere i 29 esseri umani. I 29 esseri umani. Sono laggiù in fondo dove c'è la città, ma in realtà ce ne sono anche qua. Di solito se ne occupano loro, ma... Diciamo che... Posso anche occuparmene io. Ok, adesso possiamo andare in là e uccidere quelli che restano. Yeeeeh! Ma non li contano quelli comunque i fini del numero. No, 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 no. Ne mancano quattro, eccoli qua. Yeeeeh! Fa il balletto qua c'è la musica, ma come vi ricordate per problemi di copyright non posso più mettere la musica. E sì. Missione completata, yeeeeh! C'è ancora la classifica? Eh no, c'è di battendo il server, non c'è più, quindi. Questa è la fine. Questa è la fine dell'inizio. Torniamo là. Dai meglio, diciamo... Wey, ho ucciso degli altri che semigliavano a voi. I soldi proprio, per una missione idiota proprio. Torniamo a Tarantella e... Andiamo a ripararci un po' l'astronave. Ciao bello. Ma quanto manca qua, tra l'altro, della nostra registrazione? Quanto sto registrando? 12 minuti, ordici. Allora, diciamo che posso andare a fare un piccolo viaggetto. Allora, andrei innanzitutto qui a salutare il pianeta del nostro carissimo amico. Che, appunto, aveva chiesto che gli fosse dedicato questo pianeta, Mojo's Kings. Il pianeta di Armageddon, come dimenticarlo, che tanto ha seguito questa serie e tanto ha promosso la prossima. Andiamo, invece, nel pianeta Bataclan, che appunto avevamo creato in onore di... Ma qua ci sono degli oggetti da raccogliere? In onore di quanto è accaduto in Francia, e ovviamente ormai si fa espandere un po' il simbolo di tutti gli altri attentati terroristici Diciamo che ci sono stati in Francia, in Germania, ma ovunque, nel senso che anche attentati contro arabi. Nel senso che non dobbiamo dimenticare che l'Isis uccide anche musulmani. Ci sono cristiani che uccidono musulmani, indiani che uccidono cristiani, cristiani che uccidono indiani. Ci sono sempre tutti che si uccidono, insomma. Gente pazza ce n'è, e credo che ci sarà sempre, purtroppo. Dov'è? Ah, è qui sopra. Ehi, 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 ehi. Mi sono preso una geyserata in faccia. Ma adesso con gli strumenti di moderazione planetaria, ma perché non coloriamo un po' della roba? Tipo terraverde. Ehm, bellino così. E se facessi viola? Ehm, e se facessi verde? Dove giallo? Ehm, e poi se facessi... No, cos'è questo? Ehm, colore dell'atmosfera? Colorato di arancione, quindi se esco, è arancione il pianeta. Ma no, ma è una cosa stupida, c'è solo degli sbellucicchi intorno, dai. Ehm, anche una medaglia, artista dei pianeti. E se invece colorassimo l'acqua? Allora, azzurro, credo che ci sia... Ma c'è lei dell'acqua qua dentro. Mi sa che non abbiamo acqua in sto pianeta, vabbè. Invece questo cos'è? Muri carini. Tocca e tieni premuto. Oddio, cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ma fa schifo sta roba. Fiumi carini. Ma anche se non c'è acqua, mi fa un fiume carino. Sì! Posso cambiare il colore dell'acqua, allora? Mettiamo l'acqua rossa. No. Sì, no, è leggermente rossa come sfumatura, eh. E questo cos'è invece? Oceani carini. Sembrano dei fiorellini. La terra non abbia niente. Bocca tentacolare, cos'è? L'acqua rossa non sarà mai più come era prima. Oddio! Oddio effetti speciali, proprio. Caratteri meccanici e mesas meccaniche. Oh, santi nomi. Questo cos'è? Cioccolata. Kenyan cristallino, eh. No, non l'ho capito, sto Kenyan cristallino. Vado a farlo da un'altra parte. Tanto non consuma l'energia, queste cose qua. Posso usarlo? Ah no, c'è già. No, forse questi sono dei cristalli adesso? Non so io. Erano già prima così? Boh, vabbè. Abbiamo distrutto un po' sto pianeta a caso. Vicino a Bataclan. Tanto per. Torniamo su Tarantella. Per ricaricarci un po', riportare un po' di vita, perché abbiamo perso un po' di salute. E diciamo che possiamo anche sbarcare. Ovvio, non si può sbarcare più, ormai non possiamo più mettere i piedi sul nostro pianeta. Né più mai toccherò le secre spoglie, ovvero il mio corpo fanciulletto giacquezza. Cinto mio, che ti specchi nell'onde del grepocco mare, onde vergine in acqua venere. Efea, quelle isole feconde. E poi non lo ricordo più benissimo. E quindi... Cosa mi dice l'impero Minol? Vabbè, chi se ne frega dell'impero Minol. Dove qui abbiamo combattuto, siamo cresciuti, abbiamo costruito, abbiamo... Lottato per la sopravvivenza. Siamo ora qui. A conclusione di tutto. A salutare e salutarci. Tra l'altro non ricordo neanche più quale fosse la nostra... Città di partenza. Città mozzo? Forse era questa addirittura. Può essere. Sinceramente non ricordo bene, ma può darsi che fosse in una zona di questo tipo, eh. Che dire. Ragazzi, è stato un piacere. Io vi auguro davvero ogni bene. Vi auguro di poter seguire con piacere la prossima serie che inizierà prestissimo. State aggiornati sul canale ci sarà prima un vlog se non è già uscito, poi il contest e poi partirà la nuova serie. A partire probabilmente dall'ultima settimana di agosto o dalla prima settimana di settembre. Sarà di nuovo una serie basata sullo spazio, su un gioco un po' più simulativo, meno cartunesco. Ma molto molto bello, molto profondo, con dei rapporti con le altre razze spaziali più profondi. Una bella missione. No, non è No Man's Game. Però è un titolo davvero bellissimo, che se non conoscete, secondo me apprezzerete tantissimo, come ho apprezzato io tantissimo. E ho passato davvero un sacco di ore a giocarlo. Quindi ci vediamo prestissimo. Vi invito come al solito a lasciare un mi piace, a lasciare un commento, a iscrivervi al canale, ma ancora di più questa volta, perché questo è l'ultimo episodio di Spore. E davvero, secondo me, ci va un grande grazie per tutta la ciurma, per come è andata questa serie. E davvero sono stato soddisfattissimo di questa serie, da quando l'ho iniziata a quando l'ho finita oggi. E grazie, grazie, grazie a tutti voi, grazie a tutti di tutti. Ciao, e al prossimo video. Grazie a tutti.